ciao a tutti bentornati su show per bambini oggi faremo la torta alle mele ed è un segreto perché per mia nonna Ingredienti 2 varie grandi o piccole 75 grammi di maizena 75 grammi di farina per dolci 3 uova 2 intere e un suolo 60 grammi di burro 50 grammi di latte 100 grammi di zucchero mezza bustina di lievito e di vanillina Ingredienti Zucchero, maizena, farina, mele, latte lievito e vanillina burro sale uova Prima di cominciare dovete avere tutti gli ingredienti a disposizione come al solito prima lavarsi le mani ma prima un mio assistente mi deve leggere una cosa che mi avete chiesto Riccardo avrei una domanda le mani devo lavarle cantando come Lorenzo? Sì, perché la canzone dura 40 secondi e il tempo giusto per lavarsi le mani vero Riccardo? ora vediamo le mele vediamo le mele vediamo le mele adesso adesso è per le mele dentro la bacinella rompiamo le uova adesso aggiungere lo zucchero e incominciare a frullare la mia frusta fra una cambetta ci metteremo più tempo Mentre si è giusto vi trovo che ci è mostrato molto bene ora dite ad un adulto di fare scaldare il burro con il latte prendiamo la farina e la mettiamo dentro il setaccio poi prendiamo la maizena la mettiamo dentro il setaccio un pizzico di sale e lo mettiamo dentro le uova e cominciamo a girare ora aggiungiamo le farine che abbiamo setacciato ora giriamo il pasta a velocità con il frullino e finché non si metti la farina mettiamo il burro e lo mettiamo insieme al composto e cominciamo a girare piano piano il latte non deve essere caldo ma neanche freddo versiamo il composto dentro le mele tagliate giriamo delicatamente prendete la torchiera che avete imburrato e infarinato ci mettete dentro il composto prima di metterlo in forno gli diamo una colperata di zucchero metterlo in forno per 160 gradi per 20 o 25 minuti è vietato, vietatissimo che sia aperto il forno prima che sia cotta gli adulti hanno tolto la torta dal forno ora aspettiamo un attimino e poi lo giriamo e poi lo giriamo io ci vediamo domani per una nuova puntata Sara Sara, se vuoi la torta vieni a prenderla scelta i bambini ciao Grazie a tutti Grazie a tutti